bentornato gutier bentornata bene il momento di andare a vedere come installare windows 10 con un installazione pulita prima ricordati di eseguire un backup dei tuoi file vitali vediamo se c'è da dire qualcosa prima in parte hai avuto informazioni dalle precedenti lezioni infatti sono passato per un punto in cui durante la fase di aggiornamento eseguita o tramite l'icona nell'asist ray o tramite il sito della microsoft in particolar modo facendo uso del programma get windows 10 o ancora da supporto hai avuto la possibilità di scegliere cosa tenere durante l'installazione una delle opzioni se ricordi bene era niente ossia rimuovere le applicazioni i file e le impostazioni personali di fatto durante l'aggiornamento appunto il disco rigido dove era installato il precedente sistema operativo è stato così formatato rimuovendo tutto il suo contenuto questo tipo di aggiornamento quindi lo puoi equiparare ad un'installazione pulita che eseguiremo ora sul tuo pc oppure su un altro computer partendo da un supporto fisico che ti sei creato ti sarei creata nella lezione 168 anche questa operazione è comunque da intendersi quindi un aggiornamento tornando un pochino indietro al sistema operativo passando a windows 10 per così dire un intreccio tra i due modi di operare se esegui questa installazione pulita per la prima volta sul pc dovrai avere a portata di mano il product key genuino della tua copia di windows 7 o windows 8.1 per poter usufruire del passaggio gratuito a windows 10 ma ricordati solo se questa installazione l'esegui entro il 29 luglio 2016 a meno di cambi della politica della microsoft se su un determinato pc ha installato ed attivato in precedenza la tua copia di windows 10 non ti sarà necessario inserire di nuovo il product key durante l'installazione che ti aggiungerai ad eseguire in quanto già sarà stato creato un codice univoco per diritto digitale associato al tuo hardware in questo caso puoi installare windows 10 tante volte quante vorrai con un installazione pulita e automaticamente verrà attivato windows 10 qual è il modo di operare accendi il pc ed inserisci o la pendrive in una presa usb o il dvd di installazione windows 10 che ti sarà precedentemente grato all'accezione dovrai entrare nel bios per configurare l'ordine di avvio impostando come primo dispositivo o la periferica usb o il supporto dvd e non quindi da disco rigido se non l'hai impostata precedentemente in maniera corretta come priorità per dispositivo di avvio naturalmente se già è predisposto non dovrà entrare nel bios in questo modo subito dopo la schermata di avvio del bios dovrai vedere a monito o il logo della microsoft o la scritta che ti invita a premere un qualsiasi tasto per avviare da dvd nel caso installarsi appunto da supporto ottico a questo punto agisci nel caso premendo qualsiasi tasto sulla tazziera come vedi da questo screenshot potresti avere una prima modifica che ti allerta che hai avviato un aggiornamento o eseguito l'avvio da un supporto di installazione come naturalmente in questo caso per eseguire l'installazione pulita se hai presente questa specifica notifica dovrai cliccare su no come dice appunto la notifica rappresentata in questo screenshot una prima schermata presenta l'inserimento della lingua formato ora valuta e layout di tastiera dovresti trovare tutto già ben selezionato altrimenti agisci di conseguenza posizionando i parametri come meglio credi e dopo clicca su avanti la schermata successiva presenta o il pulsante ripristino il computer in basso a sinistra nel caso di dovesse servire in seguito oppure il pulsante installa che dovrai cliccare per avviare il processo di installazione successivamente dovrai inserire il product key in questo campo come detto se stai reinstallando windows 10 non dovrai inserire il product key quindi in questo caso dovrai cliccare su non ho il product key senza inserire alcun parametro anche se stai eseguendo un installazione pulita ciò sottintende che tu abbia attivato una precedente copia di windows 10 tramite l'aggiornamento di windows 7 o windows 8.1 ma sempre se farai ciò entro il 29 luglio in quanto sarà già stata acquisita la licenza per questo tuo hardware dato che in questo caso specifico dobbiamo installare per la prima volta inserisci il product key che avrai o acquistato in windows 10 o il product key genuino di windows 7 oppure windows 8.1 è bene rimarcare anche essendo prolisso che l'utilizzo del product key di windows 7 o 8.1 è valido solo se ne possiedi uno genuino dei suddetti e questo è il modo per poter usufruire gratuitamente al passaggio di windows 10 sempre entro la data di luglio a meno che la microsoft non estenda il periodo o cambi la sua politica resta comunque valida anche l'opzione di inserire il product key al termine dell'installazione quindi non inserendo nulla ora ma inserendolo successivamente in caso di inserimento del codice dovrai cliccare su avanti e verrà eseguita una verifica sulla genuinità del prodotti che avrà inserito se non vuoi inserirlo come detto clicca su non ho un codice prodotti che cliccando sull'uno l'altro otterrai comunque una schermata successiva ben differente se inserisci il prodotti esso è associato ad una specifica edizione perché proviene o dall'acquisto della versione di windows 10 o da un precedente sistema operativo 7 o 8.1 quindi passerai direttamente alla schermata delle condizioni d'uso se invece non ha inserito alcun codice e quindi avrai cliccato su non ho un codice prodotti si presenterà a te la schermata dove potrai selezionare l'edizione di installazione che nel nostro caso può essere o windows home edition oppure windows 10 professional la discriminante avverrà appunto tramite il prodotti che avrai o meno inserito quindi sintetizzando se hai inserito un seriale non avrai presentata questa schermata senza alcun seriale dovrai scegliere quale delle due edizioni installare resta ben inteso che la non corrispondenza con la scelta fatta in questa sede potrebbe inficiarti ovviamente l'installazione perché non c'è una corretta corrispondenza superata questa fase accederai ad una schermata sul tipo di installazione che vorrai eseguire potrai avere una doppia scelta o aggiornare e quindi mantenere i file come un aggiornamento oppure scegliere quella personalizzata per eseguire l'installazione pulita e questo è proprio quello che faremo nel primo caso non perderai nulla in quanto eseguirai un aggiornamento nel secondo caso procederai per una formattazione e quindi avrai tutto pulito e noi scegliamo appunto questa seconda opzione di personalizzazione si aprirà a questo punto una schermata in cui potrai interagire con le partizioni o con la partizione del disco rigido scegli a questo punto cosa fare dalla lista delle partizioni potrai eliminare formattare o creare nuove partizioni potrai formattare anche semplicemente la partizione del vecchio sistema operativo oppure eliminarla o riclearla come meglio credi se dovessi eliminare le partizioni che non ti servono col pulsante nuovo naturalmente creerai lo spazio da allocare in modo da poter installare il sistema operativo in questa nuova partizione lo spazio e le dimensioni le deciderai in una casella che si presenterà a te con la denominazione dimensioni e dopo di che dovrai cliccare su applica come hai già ben visto per l'installazione di windows 7 e windows 8 automaticamente verrà creata anche una partizione di lavoro dedicata al sistema operativo che non ti sarà visibile chiamata partizione riservata per il sistema al termine seleziona quindi la partizione con maggior spazio e clicca su avanti inizierà la copiatura dei file con un tempo non preventivabile al termine il pc verrà riavviato in maniera automatica segui senza intervenire queste operazioni e successivamente verranno preparati i dispositivi connessi e una fase preliminare procederà un tuo intervento qual è ora intringerò tu in quanto dovrai decidere che tipo di impostazioni selezionare per il sistema operativo ricorda che potrai comunque sempre cambiarle in seguito quindi a questo punto potrai scegliere o di cliccare sul pulsante usa impostazioni rapide se non vuoi dedicarci troppo tempo oppure cliccare su personalizza impostazioni sgrossando successivamente le varie pagine che si presenteranno e scegliendo le impostazioni in base alle tue concezioni in base alle tue volontà per renderlo più raffinato ai tuoi modi di uso del computer del sistema operativo le impostazioni comunque sono identiche a quanto hai già visionato nella precedente lezione 169 seguiranno alcune schermate di intrattenimento con altre installazioni come ad esempio gli aggiornamenti in seguito dovrai scegliere se il pc fa parte di un'organizzazione o appartiene a te per uso domestico scegli ovviamente questa seconda opzione e clicca su successivo ora è il momento di decidere se vuoi accedere al pc con un account microsoft o in locale nel primo caso dovrai inserire le credenziali di tale account email e password per capirci se le hai e clicca su accedi altrimenti puoi generarne uno cliccando su creane uno ora ed accedendo alla pagina dedicata con un account microsoft avrai pieno accesso a tutte le potenzialità del sistema operativo lavorando online come accedere allo store della microsoft oppure avere l'opportunità di utilizzare applicazioni tipo one drive per la gestione dello spazio virtuale gratuito ed altre opzioni se invece vuoi accedere il locale clicca su ignora questo passaggio attua per semplicità quest'ultima scelta in quanto potrai comunque accedere all'account microsoft anche in seguito nella nuova schermata crei l'accesso in locale quindi con il nome e se vuoi una password ed eventualmente un suggerimento appunto per l'accesso anche queste credenziali possono essere variate in seguito poi naturalmente clicca su avanti le ultime schermate di intrattenimento ti traghetteranno al desktop di windows 10 finalmente dal menu start accedendo al pulsante sistema ti assicurerai che il sistema operativo sia stato attivato correttamente eccoci alla prova dell'installazione in questa schermata premi un tasto qualsiasi sulla tastiera inizierà la procedura di installazione e ti verrà presentato il logo della microsoft con dei pallini che ruotano in circolo un potenziale primo avviso ti allerta che se stai eseguendo un aggiornamento devi rimuovere il supporto e riavviare in questo caso dovresti cliccare su sì dato che stiamo eseguendo un'installazione pulita clicchiamo su no è il momento di selezionare la lingua il formato dell'ora e della valuta e layout di tastiera cose che poi anche comunque cambiare in seguito dopo la scelta clicca su avanti qui in basso a sinistra trovi il pulsante ripristina al computer che ti potrebbe servire in seguito clicchiamo su installa per avviare il processo di installazione processo di installazione che avvera in diverse fasi ora è il momento di inserire il product key se è la prima installazione che esegui su questo computer dovrai inserire il product key codice che sarà riferito a windows 7 8.1 o 10 se hai una versione genuina quindi puoi inserirlo nel campo sottostante nel caso in cui stai ristallando windows 10 non dovrai inserire in questo caso il product key e dovrai cliccare sul pulsante non ho un codice product key naturalmente dopo aver inserito il codice clicca su avanti dopo una verifica della genuinità del product key si presenterà a te la schermata delle condizioni di licenza dovrai accettarle e leggere dopodiché clicca su avanti tornando leggermente indietro ti mostro cosa accadrà nel caso in cui non inserisci il codice product key cliccando appunto su non ho un codice product key si presenterà a te la schermata dove avrai la possibilità di scegliere quale sistema operativo installare windows 10 professional o windows 10 home nel nostro caso è la professional e dopo clicchiamo su avanti e qui ci ricolleghiamo alla schermata precedente dove sono evidenziate le condizioni di licenza accettale quindi e clicca su avanti in questa schermata puoi decidere come installare il sistema operativo o aggiornare il sistema mantenendo file impostazioni e applicazioni ma non è questo il nostro caso oppure personalizzare l'installazione eseguendo un'installazione pulita eliminando tutto quanto è già memorizzato clicchiamo quindi su questo secondo pulsante e accediamo alla sezione dove sono evidenziate le partizioni del disco rigido qui potrai decidere di rimuovere tutto eliminando ogni singola partizione che non ti serve fai attenzione perché potresti eliminare partizioni utili quindi seleziona la partizione e clicca su elimina ti stimolo ad avere particolare attenzione in questa sezione per evitare di cancellare cose utili al termine avrai dello spazio non allocato clicca su nuovo per impostare il valore che deciderai da allogare nella partizione dove installare il sistema operativo dopodiché clicca sul pulsante applica una notifica ti allerterà che verrà creata una partizione dedicata a windows per il lavoro clicca su ok dopo qualche secondo avrai le due partizioni create scegli naturalmente quella di maggiori dimensioni e clicca su avanti inizierà da questo momento in poi la copiatura dei file del sistema operativo questo tempo non è preventivabile ed io per scopi didattici lo ridurrò la durata di questi passaggi non è identica all'un l'altra terminata questa fase il sistema verrà riavviato a seconda e segui questo momento senza toccare nulla sulla tastiera o interagire con il sistema ora verranno dapprima preparati i dispositivi e una fase preliminare ti accompagnerà fino al momento in cui dovrà impostare delle scelte in questa schermata puoi personalizzare come meglio credi il sistema operativo c'è il pulsante usa impostazioni rapide che ti permetterà di bypassare questo passaggio ed eventualmente riprendilo in seguito oppure potrai scegliere di personalizzare queste impostazioni cliccando sul pulsante personalizza impostazioni in basso a sinistra qui puoi decidere appunto di scegliere singolarmente ogni opzione del sistema operativo come personalizzare il riconoscimento vocale quindi attivarlo o disattivarlo oppure decidere di inviare o meno le informazioni alla microsoft oppure consentire alle applicazioni di usare il tuo identificativo per le applicazioni o disattivarlo naturalmente consentire a skype se installato di aiutarti a connetterti con gli amici hai anche la possibilità di disattivare la funzionalità per trovare il dispositivo consentendo a windows di inviare la posizione in cui ti trovi dopo questa lunga scelta clicca pure su avanti una seconda pagina si presenterà a te con altre possibili impostazioni come la possibilità di connetterti in caso di wireless direttamente agli hotspot o connetterti automaticamente alle reti condivise puoi decidere se collegati temporaneamente agli hotspot in modo automatico se sono disponibili con i servizi wifi ed eventualmente inviare alla microsoft degli errori occorsi al sistema operativo per una diagnostica qui hai delle impostazioni relative al browser e alla protezione del sistema operativo puoi decidere tu di personalizzare queste impostazioni in base alle condizioni di uso che meglio credi non lasciarti trascinare dalle impostazioni che vedi in questa guida perché sono soltanto a scopo didattico in seguito vedremo come ottimizzarle nel sistema operativo dopo aver scelto clicca su avanti troverai a questo punto una serie di schermate di interfaccia che ti accompagneranno al prossimo passaggio a seconda questa fase controllando che tutto proceda correttamente e non si blocchi il processo di installazione qui dovrai selezionare a che appartiene questo pc se fa parte di un'organizzazione dovrai cliccare sulla mia organizzazione se invece è per uso domestico clicca senz'altro su appartiene a me e dopo clicca sul pulsante successivo in basso a destra ora potrai decidere come accedere al sistema operativo se tramite account microsoft nel qual caso dovrai inserire un email e una password se fosse già attivo un account microsoft altrimenti lo puoi creare oppure ignorare questo passaggio ed in seguito eseguire queste impostazioni in questo caso eseguirai un accesso illocale inserendo il nome che darai a questo pc potrai anche decidere di inserire una password ed eventualmente un suggerimento per ricordarla dopo tale scelta clicca sul pulsante avanti ti verranno mostrate altre pagine di interfaccia che ti traghetteranno infine al desktop di windows 10 ecco finalmente l'interfaccia del desktop di windows 10 con un'installazione perfettamente riuscita cliccando con il pulsante destro del mouse sul tasto start e selezionando sistema accederai alla sezione che ti permetterà di verificare appunto che il sistema operativo è correttamente attivato e che ci sia naturalmente la corrispondenza con il sistema operativo che avevi in precedenza chiudi pure questa finestra e puoi iniziare ad utilizzare windows 10 bene nella prossima lezione ti spiegherò appunto come attivare il sistema operativo qualora non si attivasse automaticamente ora come sempre un forte saluto ciao a presto ciao a presto ciao a presto ciao a presto Autore dei sorrisi